Salve a tutti, bentornati su Speziata. Oggi vi mostro come realizzare in maniera molto rapida e semplice una salsa di frutta o pulì di frutta utili per accompagnare dolci soprattutto al cucchiaio come bavaresi, panne cotte, ma anche per guarnire una cheesecake o dolci di vario genere. Vediamo cosa ci occorre e quali sono le dosi necessarie. 500 g di frutti di bosco surgelati, 150 g di zucchero e 50 g d'acqua. Il procedimento è molto semplice, quindi basta mettere i frutti di bosco in una casseruola, ricoprirli con lo zucchero e aggiungere poi l'acqua. Diamo una rapida mescolata e portiamo tutto a bollore. Una volta raggiunto il bollore abbassiamo la fiamma e lasciamo cuocere i frutti di bosco fino a quando si inteneriscono. occorreranno all'incirca 7-8 minuti. Una volta che la salsa sarà pronta la lasciamo raffreddare e la possiamo utilizzare. In questo caso abbiamo i frutti ancora interi. Ma se vogliamo ottenere un pulì, una salsa alla struttura più fine, la frulliamo con un mixer di immersione e la passiamo a setaccio. Possibilmente utilizziamo un setaccio a maglie fini, in modo che la struttura della salsa viene molto raffinata. Questa è la giusta densità che deve avere la salsa una volta che si sarà raffreddata. Una volta che la salsa di frutta si sarà raffreddata la possiamo utilizzare come più ci piace. Altrimenti la conserviamo in frigorifero e si conserva per diversi giorni. Quello che vi ho mostrato è il metodo per realizzare i culi di frutta utilizzando la frutta surgelata, come in questo caso i frutti di bosco, ma potrebbero essere dei mirtilli, delle fragole, delle ciliegie o altro. Se invece vogliamo realizzare un culi di frutta utilizzando la frutta fresca il procedimento è praticamente proprio diverso. Bisogna realizzare innanzitutto uno sciroppo di zucchero preparato con uguale quantità di zucchero e di acqua. Lo ci lascia bollire, si lascia poi raffreddare ed infine si unisce alla frutta già pulita, tagliata a pezzetti e si frulla tutto insieme. Aggiungiamo prima un po' di succo di limone per non far cambiare colore alla frutta. Infine si passa il tutto a un setaccio a maglia fine e si utilizza subito il culi. Se invece vogliamo conservarlo sarà necessario pastorizzarlo, quindi portare il tutto a una temperatura di circa 70 gradi. Per alcuni tipi di frutta però non è consigliabile la pastorizzazione perché cambiano colore, come nel caso di kiwi, kaki, lamponi o fragole. Esiste inoltre un altro metodo per realizzare i culi di frutta, ancora più rapido, completamente a freddo. Si frulla la frutta con dello zucchero a bello, un po' di succo di limone, si passa il tutto al setaccio e si utilizza però subito. Provate anche voi a realizzare i culi di frutta, grazie per la vostra attenzione e se vi va continuate a seguire Speziata.